Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Alter Magical Girle. Stato del prodotto, aperto. Circa 340 mm in altezza circa 220 mm di lunghezza di circa 175 mm, formato della scatola esterna. Dimensione corporea, altezza 27 cm. Obiettivo genere, ragazzo. Et, a partire dall'Et, di 15, la paese principale produzione, Cina. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.